Buongiorno ragazzi, oggi è stato questo nuovo video ed oggi siamo qui per giocare con Nicolò oggi ho deciso di portarvi Nicolò, anzi vi dovevo portare una live, infatti la stavo facendo ma visto che mi lagga proprio un botto, ho deciso di fare un video dopo ci riprovo ragazzi a fare un'altra live però con un altro gioco perché su bluestar c'è la gambotto ieri dovevo caricare un video, l'avevo caricato ma non mi si è caricato sul canale ma comunque non fa niente, andiamo subito a giocare vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto per non perdervi nessun altro video oh prendi quel power up che aiuto ok due power up attenzissi mi ha ammazzato colto praticamente raga ok bravo attenzione però eh cavolo aiuto no regà non ci posso credere ci posso credere la 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 meno una le oddio sto mettendo il telefono in carica ok regà devo cercare un'app più buona per fare le live cioè che non mi laggasse perché mi lagga regà tanto attenzione regà che cosa sto facendo fran che è un bel colt e sono morto alle che cosa sto facendo lui va a prendere fran e io vado a prendere colte se non muoio di sicuro quello è certo grande è morto dalla tempesta è morto dalla tempesta gg gg per il nabbo gg per il nabbo è morto è morto anche lui a posto buonasera sta morto morto mettiamo no lasciamo gg gg ma ma what io metto per più trofei per trofei la tu cambibli no 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 forse ragazzi forse ma non è detto faccio una live dopo ma su fifa 16 raga pure fifa 20 cavolo non mi è accorto è morto è morto è morto è morto due ottobit non ci posso credere mai nella vita fatta da rega stop un attimo il video e arrivo eccomi ragazzi andiamo subito a giocare un'altra partita volevo vedere il profilo a subito ok buono aia vieni qua pocio dove pensi di andate e tu che vuoi fa che vuoi fa non so come sono sopravvissuto sono morto che bello guarda se non muoio non sono morto ancora cinque team che hai dubbio che lo dà lì e lo blocco qua ok è ucciso cavolo me la carta mercato è pochissima vita grande non voglio morire ok un bel ma abbiamo ok dove devo andare a scappare nove coppie in più grado 12 credo pure una casa ragazzi attenzione eh sì una bella casa da aprire ragazzi dovete lasciare un botto di like se trovo qualcuno rica 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 ve l'ho detto se trovo qualcuno ve l'avevo detto quanto e vabbè se era qualcun altro ci godevo però dovete lasciare lo stesso like perché ho trovato qualcuno ho trovato bombardino non importa se anche non è non è non è non è tanto nel senso vabbè lo trovano tutti così nel senso ok rica ok rica dopo vedo un app più migliore di questa qua che per fare le live perché mi raggambotto non so non so se grazie ti può usare qualche app ma non credo proprio ok colpito 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 tutte e due è un gesto e un bel car car ci dobbiamo far ammazzare ci hanno pure tre power up c'è un ammazzato e abbiamo vinto bello stavo quasi ammazzare rica ok no forse rica faccio una live su un gioco però non so se vi piacerà o no aspettate rica sto no ho messo la massata sto un attimo fermo rica sto attacca la carica non mi si attacca rica eh ok ti aiuto aiuto io amico mamma mia come ho fatto ok credo che falli ok è morto bravo mi sono detto bravo da so no penso che c'era qualcuno la no invece sta lì scontro finale a lei rica credo che non vi piacerà tanto il gioco che è il gioco che giocherò da no spero di sì credo due ne faccio altre due partite poi e poi ci dobbiamo salutare ragazzi ok cos'è questo cosi 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 cavolo sono morto no aiuto ecco pure spike perfetto perfetto ragazzi credo meno male che 0 coppia è persa facciamo un'altra partita ragazzi e poi ci dobbiamo salutare lì stanno ma dove scappare? è amassato mamma mia vediamo se sta qua no 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 dove staranno? stanno lì ah ok ragazzi l'ultima partita è andata benissimo spero che questo video vi sia piaciuto ricordatevi al canale se ancora non l'hai fatto per non perdervi nessun altro video noi ci becchiamo noi ci becchiamo a un prossimo video alla live dopo e bella ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti